e vabbè ho capito allora io ho paura qui però io ho paura qui perché perché qui non vorrei che è una scelta inganno nel senso che magari io voglio anche fare la magnanima e perdonarlo però non vorrei che se lo perdono lui non fa un cazzo e sono io che ci vado di mezzo cioè questa è la mia paura io vorrei perdonarlo perché lo capisco ok perdonare non è giustificare perdonare non è giustificare il mio dubbio è ma se io lo perdono che succede è stupio con danni che cosa come però allora al di là di tutto va bene quella sono io però se dobbiamo essere onesti se dobbiamo essere onesti col cuore in mano tesoro mio bravo bella barba complimenti bel locale te l'avrei perdonata se fosse stata solo la roba della miniera ma cazzo mi è sparato in faccia mi stavi sparando in faccia e avresti buttato il mio corpo in un pozzo quindi fottiti va bene cioè perché ripeto finché è solo la miniera ti posso pure perdonare va bene è umano è umanissimo non se l'aspettava ha avuto paura e poi un le bugia sopra l'altra si sono sommate ed è arrivato un punto in cui non poteva più tornare indietro già il solo fatto che lui viva con quella consapevolezza è una maledizione quindi io l'avrei anche perdonato ma mi è sparato in faccia quindi vaffanculo quindi vaffanculo fottiti mi sparato in faccia cioè sta maledizione ridendo no non è vero no molto bella questa cosa mi piace molto ma è molto figa molto 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 figo bellissimo e and the news is still coming in on the type in mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs where council meeting with the scene for shocking revelations Posso anche dire una cosa È stupido Però vi posso dire una cosa Anche a livello Cioè Qui ci posso anche rispecchiare un sacco Il fatto che non abbiamo Giocato all'arcade E non abbiamo battuto il record di Gabe È bellissimo Cioè il fatto che ci sia ancora Gabe primo Sono contenta Cioè perché comunque noi l'abbiamo giocato Quando ancora Gabe era vivo Quindi potenzialmente potevamo battere il record già lì Sono contenta che sia rimasto così Che è rimasto lui come Come giocatore più bravo C'è Kino Allora Avevo una ragazza di Raven Springs Per il vostro sostegno Abbiamo pubblicato un comunicato Allora Guardiamo Eeeh Quanta roba Va bene Ok va bene Hanno regalato una Ryan Ah vabbè Steph l'ha presa bene Steph l'ha presa Adesso vediamo Abbiamo un bel po' di roba Da recuperare Ok Lavoro come giornalista Questo è prima No Dell'incidente ovviamente Sono messaggi prima dell'incidente Sto scrivendo una cittura Il carticolo sul concerto incredibile di stasera Blah 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 Non siamo una band Va bene Ok 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 Guardate Jed È preoccupante Non l'ho vista nemmeno io Tieni mi aggiornato Ma abbi la decenza Quanto meno di non commentare Madonna Pezzo di merda No Questa cosa è stata troppo sporca Però no No La pistolettata è stata troppo sporca Cioè Piuttosto Davvero Cioè Io allora Come Mi dite come se ne doveva uscire Parlavi con la Typhon Cioè davvero Piuttosto Piuttosto Parlavi con la Typhon E facevi veramente Sai che era sempre sporca Però facevi in modo Che mi arrestassero Che mi allontanassero Eh Anche facendo carte false Ok Io lo sto dicendo proprio sporco per sporco Fa in maniera tale Che mi allontanano dalla comunità Ma no Che mi spari Mi butti in un pozzo Ma veramente Ma dai Ma per favore Vabbè Allora Ehm Va bene Ok Ti rendi conto Che spandere la miniera È solo una soluzione temporanea Per Eva Non parlare Impatto ambientale Va bene Vabbè Quindi comunque La votazione era Per l'espansione della miniera Ok Il festival di primavera Ieri è stato un vero successo Grazie mille Un momento Un'altra tradizione Non manare Ripulire tutto Va bene Cazzate Ok Comunicato riguardo All'indagine in corso A Van Springs Comprendiamo delle Preoccupazioni Della comunità Stanno ancora affiorando Dei dettagli E per questo Stiamo cooperando Con la polizia statale Qui è Quando è uscito fuori la merda Al momento sappiamo Le stesse cose Che sapete anche voi L'agente Jason Pike È stato sospeso In attesa di un'indagine Vi preghiamo Eeeee Nel culino Jason Nel culino Non capisco Poverino Quello che era Già che c'era Pure la presa nel culo Non capisco Come sia potuto succedere Senza che voi Me ne accorgeste Va bene Che sta succedendo Solo rispetto Per i nostri ragazzi In blu Guarda che lui Era vestito di beige Ed era una marionetta Della Typhoon Eee Tra Tra Oddio Ok Black Panther Rimarrà chiuso Fino a nuovo avviso E noi siamo Senza lavoro Comunque E noi siamo Senza lavoro Magari abbiamo pure Abbiamo Abbiamo il piano Di sopra Scrocco Ma intanto siamo Senza lavoro Non parlarmi Delle commissioni No Charlotte Ti prego Non parlare Delle commissioni Mi parto Di flashback Del Vietnam Ok Ho deciso Di riprendere Le commissioni Penso che in questo momento Stiamo tutti cercando Un modo Per tenerci occupati E l'arte No Ti prego Non parlarne Chi ha seguito la scorsa live Sa Non fatemelo ripetere Ottime notizie Abbiamo chiamato negozi Sarebbe No Ti prego Quanto tempo ci metti Charlotte Due Tre mesi Quanto ti puoi pagare Allora Va bene Venendo dalla nuove candidature Va bene Non me ne frega Un cazzo Ok Allora 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 Tante cose Da leggere Qua Jessica Chi cazzo è Jessica Sono Jessica Martini Sei la gazzetta Delle montagne rocciose Scusa per averti contattato Senza visarti prima Sono anche passate tante Un reportage Al momento Non mi va di parlarne Ok Va bene Quindi questa giornalista Giornalista Ok Va bene Si sape Che io ci sarò sempre per te Chiamami se hai bisogno di qualcosa Grazie per avermi sostenuta Ryan Tu che mi dici? Alex mi dispiace Mio padre era un eroe Quello che hanno detto Tutti per anni Ci sono volute così tante bugie Per mantenere quell'immagine Bugie terribili Disgustose La Tefa ha mentito Papà ha mentito Una cosa peggiore È che io ho mentito a me stesso Anche quando avevo la verità Davanti a io Che ho creduto a lui Invece che a te Mi dispiace così tanto E ti vuoi vedere In realtà io lo Io lo capisco Lui comunque Sinceramente Lo posso capire Non lo trovo così Pezzo di merda Lui devo dire la verità Cioè sul momento È ovvio che ti senti tradita Però comunque È suo padre Ok È il suo cazzo di padre Quindi Cioè non Io al posto suo Non so se avrei creduto Cioè quindi Non me la sento Di Di puntare il dito E condannare A prescindere Eh Ehi Shen Non credevo Che ce l'avessi fatta Vincere contro la Typhoon Sei più coraggiosa Quanto pensassi Devo trovarmi Un nuovo lavoro Sono felice Che tu stia bene Ok Va bene Cara Alex L'ultima settimana Ne passate tante La tua resistenza E il tuo caraggio Continua a stupirmi Non lo dubbi Di superare questo periodo Con la stessa grazia Che dimostrato Durante la nostra Meravigliosa danza Allo festival di primavera Un momento Che non dimenticherò mai Oddio Per favore Ricordati sempre Che puoi contare Su di noi Con affetto Reginalt Mercallister Terzo Oddio Oddio Daki Oddio Lui è bellissimo Posso fidanziarmi Con te No Non so cosa dirà Alex Il mio cuore si spezza Se penso a quanto hai sofferto Nessuno dovrebbe vivere Nullati simile Sappi solo Che io e te Non siamo sempre qui Per te Cavoli Ho sentito Cosa è successo Perché Non mi hai detto Di essere una supereroina Quando ti ho scritto ieri Sono felice Che stai bene Artur Ok Vabbè Non altro Giornalista Mi dispiace Mi hanno contattato Vari giornalisti Però non parlo La stampa Quando hai scoperto Oh ma sei stronzo Cioè ma guardate Che pezzo di merda Io ho scritto Che non rispondo Ho fatto le domande Di sms Ma vaffanculo Ok Qui avevano cercato Di Ok Facci sapere Se stai bene Sono sicura Hai perso il cellulare Ma la mia Si sta preoccupando Va bene Ok Ok Va bene Qui Ok Sono diventata brava A descrivere I sentimenti degli altri In questo diario Non posso leggere Senza il font Fastidioso No Anche quelli nuovi E complicati Sono capace di svelare I misteri E trovare le parole Ma non so se Questa volta ci riuscirò Sapevo che c'era qualcosa In me che risuonava Con qualcosa Dentro a Jed Si mescolavano E ci facevano avvicinare Sempre di più L'ho visto dentro di lui Ed è stato come Entrare in una casa In cui vivevi un tempo E vedere come l'hanno Trasformata i nuovi inquilini Un terribile odio Verso se stessi Così ceccante Che non sei capace Di guardarlo direttamente Quindi lei comunque Cioè avevano Si sentivano una merda Tutte e due Anche se per motivi diversi Fichissimo La certezza Che tutto quello Che tocchi marcisce La rigidità Del tuo ruolo Della routine Delle frasi Che memorizzi Ripeti continuamente Per evitare di arrenderti Di affrontare la verità Non mi pento Di quello che ho fatto a Jed È un mostro Indipendentemente Da quello che stava passando I mostri Devono essere sconfitti Ma ora posteriore Mi chiedo Se è questo quello Che mi merito Perché anche se il mostro Non c'è più L'odio per male Lo sento con una fiamma Nel cuore Che cerca di bruciare Qualcos'altro Magari adesso È parte di me L'ultima cicatrice di Jed L'unica che non guarirà mai Vabbè quella invece È una canzone Ok Eh vedete qua Sì Pike aveva paura Ok Ma bello No è molto figa Questa cosa Ma anche questa cosa Che risuonavano Che avevano questo sentimento Di odio Nei propri confronti Comunque Di disprezzo Anche se per ragioni diverse Ok Vabbè È il momento Beh Dobbiamo ovviamente Spipolare tutto Pure è morto Come una merda Vabbè Ecco Giustamente Quindi ce l'ha regalato Lui lo scoiattolo Ascolta l'intervista Poe Il tremendo Spain Dolce Santa Santa No esatta Alla fine non ha vinto Nessuno Infatti L'amministratore delegato Della Typhon Si dimette Le azioni precipitano Alcune fonti dicono Che le indagini Delle FBI Sono imminenti Solo poche ore Dopo una sprezzante Conferenza stampa In cui aveva promesso Di guidare la sua azienda Tra le acque Bruttose Cosa del futuro Dennis Walker Si è dimesso Dal ruolo di amministratore delegato E presidente Della Typhon Nel frattempo Le azioni della multinazionale Una delle cinque imprese Leader del settore Sono precipitate Quasi la metà Del loro valore iniziale Continua ad essere In caduta libera Nasce tutto Da una serie di accuse E confessioni scioccanti Legate a delle azioni Dell'azienda Nella regione occidentale Del Colorado Dove la coordinatrice Dell'operazione regionale Diane Jacobs E l'ex Capo squadra Antiminatori Jade Lucan Sono stati Arrestati Ok non continua Ok va bene Vabbè qui È un'altra tizia Che vuole parlare con noi Lo stato profondo È dietro allo scandalo Minorario del Colorado Abbondanza di irregolarità La verità non viene alla luce Che cosa nascondono A tutti i negazionisti Di stato profondo E cinici Con le fette di salame Sugli occhi Buona fortuna Cercare di capire Cos'è successo La scorsa settimana Nella piccola cittadina Montana di Avene Springs In una nomina Anonima Anonima Cazzo Anonima Betola Fa culo Otto membri Del consiglio comunale Siano riuniti A porte chiuse Per discutere Di un permesso municipale Per le estrazioni mineralie E quando si sono aperte le porte Uno di loro Aveva ammesso Di aver commesso Un omicidio Un altro una frode Tuttavia Nessuno è riuscito A spiegare In modo razionale Perlomeno Come è potuto succedere Tutto questo Il tassidermista locale Reginald McAllister Conosciuto in città Con il nome di Ducky Ha descritto l'accaduto Come una specie di ipnosi Durante la quale Un grande uomo È stato obbligato A mettersi nudo Davanti a tutti È una verità Insumata Di recente Occupato Il suo posto legittimo Per i nostri lettori Più fedeli Un carro armato È passato fuori casa Per i nostri lettori Più fedeli Le implicazioni Non potrebbero essere Più chiare di così Questo comune Deve appartenere O essere al servizio Del centro militare Industriale Paragovernativo Globalista Che è detta Le leggi Vabbè Ok Ok Va bene Noi chiaramente Abbiamo visto Una situazione estesa Di ciò che è stato Fondamentalmente Uno scambio di sguardi Molto intenso Fra Noi E Ok Ovviamente Non è che siamo stati 15 minuti A fissarlo Però siamo riusciti A influenzarlo Al punto Da Appunto Ok Da chi Bellissimo Da chi Lo amo Ma sono tutti Personaggi Bellissimi Comunque Trovato questo A casa di Jed Dopo tutto Quello che è successo Pensavo Che ti avrebbe fatto Più c'era Verlo Ma cosa Il bomber Penso Il bomber Oddio No È di nostro Padre Che dolore Che cosa brutta Penso Non è di nostro fratello No Credo Sarà di nostro padre Minchia Valerio Se pensi che questo è forzato Life is strange Da due dita in gola Cioè Minchia Non faccio spoiler Ma in life is strange C'è un personaggio Che passa da così A così Mezzo secondo Senza Il minimo Preavviso Cioè Della serie Che tu te lo rigiochi E dici Vabbè Ha due personalità Ma una La nascosta perfettamente Cioè Qui Te lo rigiochi Ci sta Cioè Hanno fatto lo stesso Barbatrucco Fondamentalmente Del primo Life is strange Ma nel primo È una merda Cioè nel primo È veramente Una merda Buttato Completamente A caso No Io non lo trovo Forzato Non lo trovo Forzando anche Il ritmo Anche perché appunto Se ti leggi le cose Sai perché Il fratello Era venuto qua Perché Stava cercando Il padre Indizi Quindi no Secondo me funziona Guardate Per adesso Assolutamente È il Life is strange Con meno forzature In assoluto Funziona tutto Ma anche I poteri Nel senso Il peso Che la typhon Come alla fine Gliela buttiamo nel culo Il comportamento Della legge Dello sceriffo Cioè Il secondo Life is strange È di un forzato Terrificio Il secondo Life is strange È solo cringe Il secondo Life is strange È ridicolo Tutto parte Da un presupposto Del cazzo Ovvero Non possiamo Affidarci alla giustizia Perché siamo messicani Neanche messicani Cioè Padre messicano Con cittadinanza americana Nati negli Stati Uniti Però Capito Capito No Non ci crederebbero mai Perché abbiamo La pelle più scura Del normale Del normale americano Ma d'affanculo Cioè Per favore C'è Tutta la storia Del due Si basa su quello Ok Ok È del padre È del padre Del padre No 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 I'm a hard worker And I learn fast And I don't mind long hours No You don't have somebody Waiting on you at home No No Sir Beh, John, credo che sei un piazza di giro. Deve essere raro che un paper locale abbia scoperto la grande ha preso. Scandalo! Heaven Springs sconvolta la notizia che la giro ha nascosto otto morti. La pittoresca cittadina montana di Heaven Springs è sbigottita di fronte a una serie di rivelazioni connessa alla morte del signor Chen, la signora Jacobs, la 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 la. Non è assolutamente possibile immaginare che la giro della giro è questa ragazza. Allora, diciamo che è ovvio che allora la forzatura chiaramente consiste nel fatto cioè l'unica forzatura è il fatto che c'era Ethan che si era messo sul cazzo di pizzo di burrone maledetto e guarda caso non aveva sentito delle esplosioni è uscito di casa senza che se ne accorto nessuno Ryan ha dimenticato di avere i testicoli e non ha chiamato i pompieri o i vigili del fuoco è ovvio che c'è una forzatura però non è folle nel senso funziona non è un buco di trama non è illogico è inevitabile che alla fine per andare a creare la situazione un minimo ci deve essere una convergenza di coincidenze però devo dire che il ruolo della Typhon il comportamento di Diane il comportamento di tutti funziona davvero l'unica cosa che è un pochino a me secondo me è quella cosa all'inizio Ethan porca miseria veramente lì ti dovevi mettere col mostro che ti guardava però vabbè poi sì è ovvio ma guarda tu la coincidenza era proprio quel giorno sì vabbè le storie così le scrivi altrimenti non ci sarebbe stata la storia da raccontare ovvio che ci deve essere una coincidenza però per adesso veramente mani bassissime il New York Lefist range assolutamente a livello di scrittura proprio mani bassissime allora cappello da bardo Pietro Avite è l'avvocato carino giustizia scritto così carino ti fa capire ti fa capire che si vedi giustizia si ma anche un sacco di soldi e qua ridiamo e scherziamo ma probabilmente questa si prende una vagonata di soldi adesso quindi quantomeno si sistema quantomeno si sistema quella era una multinazionale cioè probabilmente allora o le sparano o bandano un cecchino e l'ammazzano e comunque si sono comunque infangati o le sparano o questa si fa i soldi se la compra Evan Springs se la compra cazzo no infatti basta basta miniere basta per carità il pillo di Evan Springs non basta ma sicuro non basta dai che Ryan ti previ si dai che non si è cambiato comunque è ancora sporco chiudi la porta lentamente smettete la smettete la guardate la faccia che ho fatto guardatelo oh oh No, finché Rai ho ancora i vestiti addosso. Smettetela. Sì, qua mi sta... Comunque, in realtà sta dicendo una cosa proposto che non è detto che sia vero, dando per scontato che sia onesto e non ho motivo di dubitare. Cioè, sta dicendo che è disposto ad andarsene, pur di stare con noi, è disposto ad andarsene perché dice posso capire se tu non vuoi rimanere qua dopo quello che è successo, in quel caso sappi che io ti seguirei. Cioè, lui abbandona il lavoro, l'abbandona le sue radici, ha una sicurezza qui. Cioè, quindi, in realtà, sta dicendo una cosa pesantissima. Non è da sottovalutare in relazioni normali, equilibrate, senza problemi, senza traumi, senza quello che è successo. Molti ragazzi non accetterebbero di fare una cosa del genere. Non lo farebbero, eh. Ok, te lo chiedo, sì, lasceresti Haven. Ora posso toccarti l'esercizio? Vedete, Ryan? No. Niente. Volevo... Niente. Sei andato? Vabbè, ok. Cerca di nuovi uccelli, quelli di Efe li conosci tutti. No, smettetela. No, però devo dire che è una presa di palle notevole quella di... Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che Ryan avesse questo momento palle. Addirittura andarsene e seguirmi. Ha guadagnato punti, eh. Buono. Smettetela, è il momento finale. Smettetela di scrivere cose. Sì, vabbè, posto che comunque lei sta benissimo. Dopo due giorni che si è fatta il pozzo di testa, il tuffo di testa carpiato nella piscina senza acqua. Sta una crema, ripeto. So peggio io con la cervicale infiammata di lei che si è fatta il tuffo a delfino. Però, boh, non lo so. Io così non sento... Posso capire il volersene andare, però... Io non sento... Cercando di empatizzare un attimo, abbiamo passato la nostra vita a scappare. No, a scappare o a non trovarci al nostro posto. E per carità, qui abbiamo già avuto dei nostri bei traumi. Però, posto che ovviamente saremo ben lontani dai buchi del terreno, no? Cercheremo di stare attenti ai precipizi e magari non ci faremo troppe scampagnate. Però io non sento il desiderio di andare via. Qui comunque qualcosa è successo e c'è il potenziale di costruirci qualcosa di bello. Oltre al fatto che è un posto della Madonna. Oltre al fatto che ci prenderemo così tanti soldi per quello che è successo. Io ripeto che diventeremo le padronne di Evan Springs potenzialmente. No, però al di là di questa minchiata... Non me la sei... Non voglio andare via. Non voglio andare via. Sarebbe un fuggire di nuovo. Lo vedrei come un fuggire di nuovo. Non è necessariamente così. Puoi anche dire, no basta, voglio cambiare pagina. Adesso finalmente ho fatto le mie esperienze. Ho capito, mi sono centrata e adesso posso cominciare la mia vita però da un'altra parte. Però c'è così tanto qui anche di bello. Ok? Il ricordo di nostro fratello non è per forza brutto. Il fatto di nostro padre. Cioè stare qui lo vedo anche come un... Rimanere vicino a loro. Non per forza come una cosa negativa. Proprio perché questo luogo nascondeva così tanto male, noi qui adesso possiamo fare del bene. Io la vivo così, però non è giusto o sbagliato. Secondo me ognuno qui può viverla come vuole. Per carattere io non me ne andrei. Per carattere io rimarrei per creare dei bei ricordi. Qui. Perché altrimenti diventerebbe un luogo maledetto anche questo. Se ce ne andassimo. Mentre invece così possiamo fare... Possiamo renderlo un bel posto per noi. E poi abbiamo questo terrazzo della Madonna. Non ti mangi. Io non me ne andrei. Palese che ci prendiamo la Black Lantern noi. Comunque con Ryan. Basta No ma infatti no restiamo qua Posso fighissimo lascia fare Si però il fantasma che mi beve la birra no eh Lasciami la birra Ovviamente non se la stampa per averlo in serie Hai rotto deciditi No vabbè sta parlando con se stessa chiaramente A little Ah god dovremmo riuscire Sì stop non ho bisogno del misterioso che non ho bisogno ho bisogno ho bisogno ho bisogno di un amico scusate che succede? e penso che non ci sia l'audio della fine comunque mi sa che hanno tolto la musica si mi sa che non c'è la musica vabbè rip ah si è cambiato si è cambiato si è cambiato eh niente mi inculo il locale di no 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 e vabbè sicuramente se non fai la romance con lei se ne va ma ah pure vabbè se le è contenta così dai no no e little by little time does its thing peccato ovviamente qua ma senza musica si perde un sacco voi giocatevelo chiaramente senza senza il blocco copyright chiaramente ok the apartment starts to feel less like a museum oh more like a home quindi quindi da ora in poi il bar a o il bar aperto o il negozio di schia aperto esatto oh 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 sto sparendo le armi perché stanno sparendo le armi vabbè ok nooo poverino madonna cuccato malissimo scusate quello secondo voi è il padre di di ita ah no il tizio del ristorante è vero è il tizio del ristorante vero è il tizio nuovo quello che si è trasferito niente che taglio brutto ha zaccato malissimo ah niente ui ah oddio qual è stupido dove sono i piccoli Ryan Oh, bello, bello Che era quello a cui tenevo comunque Comunque noi abbiamo avuto un'influenza in questo posto E' cambiato anche grazie a noi E' diventato un posto migliore grazie a noi Noi siamo rialzati e abbiamo reso quel posto migliore Non lo questioni Non lo dubbi 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 E' la tua vita La vita che hai sofferto così difficile per avere E per la prima volta in un lungo tempo Non lo vivi Grazie Non lo dimentiché Ah, quindi era un trip Carino anche questa cosa Se è veramente un trip Ok Quindi è ancora più aperto il finale Se è così forte Fico Voglio restare Eh sì Finale di Scraps Esatto Finale di Scraps No, no Mi dispiace No, no Resto È un'opera di Scraps È un'opera di Scraps Canon Canon E non Canon In questo caso Non c'è Steph Perché poi a me Quello che fa impazzire È che purtroppo Sto generalizzando Ma nel 99% Dei casi Delle persone che dicono Steph è meglio È Ve lo dico Chiaro e tondo Feticizzazione del rapporto Lesbico Saffico Va bene Perché vi arrapa Ok È come il discorso Di Iaoi Lo fate per questo Ammettetelo Abbiate il candore Di ammetterlo Vi arrapa Di più Ok Trovate più arrapante L'idea Di vedere due Signorine Piuttosto che di Magari Immedesimarvi Potenzialmente I Ryan Ok È più arrapante Ammettetelo Non c'è niente di male Non c'è niente di male Ma cercare di Paraculare La cosa con No È più canon Il cazzo Non è più canon E in base a quelle scelte che fai A come lo vivi A come interpreti la storia Ai tuoi gusti E cosa vuoi dalla vita Quindi Così come Ryan E Steph Io rimango a Evan E non c'è più canon Partiamo all'avventura Perché life is strange E quindi Love and peace and drugs E quindi dobbiamo avere la chitarra Perché se non c'è la chitarra Non è life is strange E ci deve essere per forza La cannabis Ce l'abbiamo E la nostra Charlotte Ce la dà Le caramelline gommose Non abbiamo bisogno Di fare concerti Per drogarci Ce l'abbiamo proprio dietro casa D'accordo? Quindi restiamo a Evan Non c'è niente di male Voler partire all'avventura Ma Non è Più giusto Ok? E per una santa volta Che finalmente Abbiamo life is strange Che è veramente bilanciato Che veramente Non sento Una cosa più giusta Dell'altra Cioè Potrebbero funzionare In maniera validissima Entrambe le opzioni Non uscitevene col canon Perché proprio Mi sale sangue alla testa Mi sale veramente Il sangue alla testa E lei ha più magliette di me Per quanto Per buona Questo accostamento Giallo verde Mi fa veramente male Però ok E mi piace anche Il fatto del finale Alla scraps Molto 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 carina Una bella scelta Mi è piaciuta un sacco Qui dovrebbe esserci La musica Immagino Però il suono dell'acqua Il so perché Ha sorriso È così carina Quando sorrida lei Ha sorriso così bello Ok Qui c'è una musica Che voi Immaginatela Fortissimo La cosa certa È che sarà un'avventura Esatto Beh Bello anche Il nome del Del trofeo Ok Mi dispiace molto Per la questione musica Perché è ovvio Che fanno tantissima atmosfera Però L'alternativa È rischiare Di avere chiuso il canale Quindi Anzi Un motivo in più Perché così Magari lo comprate Fate le vostre scelte E vi sentite Ovviamente La storia Con Il giusto Background Va bene Allora Ah Questa non me l'aspettavo Questa non me l'aspettavo Ero convinta Che la maggioranza È anche una larga Maggioranza Almeno mi aspettavo Il 70% Perché partire Per dedicarsi alla musica È proprio Classic Life is Strange Vibes Sono contenta Sono contenta Uno Non perché ho vinto Non era una gara Ma sono contenta Che le scelte Sono molto bilanciate Il che conferma Quello che ho detto prima Che sono entrambe valide Per cui Di solito Quando non c'è Uno squilibrio Tipo La romance Del primo Life is Strange Dove il 99% Della gente Sceglie Chloe E non il ragazzino Talmente carismatico Che neanche mi ricordo Ma il cazzo si chiama Qui invece è abbastanza Bilanciato Ok Ha condannato Gede Ok La minoranza Umanamente Lo volevo perdonare Però la pistolettata No La pistolettata È troppo È andato troppo Oltre La poteva fare sporca La poteva fare sporca Ma la poteva fare Molto meno sporca Di così Così è stata troppo Sparare una ragazzina Sei troppo Un pezzo di merda Alex ha detto Avrei imparato Non temere le sue emozioni Alcuni membri Del sconsiglio Siano schierati Vabbè Ok La maggioranza È rimasta In equilibrio Nessuno Vabbè Era difficilissimo Cazzo Per fare nessuno Devi essere Una merdaccia Per tutto il tempo Alex ha detto Vi volevo appartenere A qualche luogo in futuro Alex non si è seduta Sul letto Ho visto che potevo farlo Ma mi ero appena alzata Quindi vabbè Alex Ha solo il 4% Non era pronto No Secondo me Era la risposta Più giusta Anche perché Non era passata Una settimana 10 giorni E'erano passati Due giorni Dai su Ci sta Anche ammesso Che gli volevi saltare Addosso E palpargli il culo Deve Deve rosolare Comunque Deve cuocere A fuoco lento Deve pagarla Un poco Per quello che ha fatto Anche Anche se lo capisco Comunque Comunque Deve essere punito Charlotte Sei schierata Con noi Una minoranza Eleanor Si affetta Di cercare Aiuto per Alex Va bene Ok Poi che ha detto Ad Alex Di rassegnarsi Perché Appunto Noi abbiamo tolto La paura Da chi si è schierato E tra l'altro Penso Paradossalmente Abbiamo fatto il suo male Perché se avessimo Tolto la paura Probabilmente Non sarebbe Non avrebbe perso il lavoro Ma perché In realtà Firmare Non cambia nulla Perché Anche se tu ti rifiuti Di firmare Comunque Jed fa la merda Subito Quindi non c'è Il tempo Di Ma perché In realtà Il problema Jed Jed ha fatto Una cazzata Perché Ha preso Un'iniziativa Proprio da Murricano E è partito Il Murricano Senza confrontarsi Con la Typhon Quindi a prescindere Quindi a prescindere dal fatto Che firmiamo Se firmiamo Lui comunque capisce Che noi non ci saremmo Resi in ogni caso Di quello che dice Se non firmiamo A maggior ragione Si caga sotto E fa la cavolata Ryan Ryan ha creduto Già Durante il voto Ryan e Alex Hanno iniziato a uscire Insieme a Evan Springs No Però non me la dovevi dare Come opzione Me la dovevi lasciare Come scrubs Era carino Perché ti hanno messo Il finale Ma è un flash Cioè Non è sicuro È proprio figa Questa cosa Perché è un finale Aperto Ma non è aperto È proprio bella Vabbè Steph e Alex Non si sono messi insieme Alex è rimasto A Evan Springs Ok Va bene Era la cosa finale D'accordo Ok Va bene Allora A questo punto Dovrò Voglio Non devo Voglio Assolutamente Acquistare Il DLC Su Steph Su Su Steph Si Questa la storia Di Steph Questa qua Che comunque Costo un botto Costo un botto Però Ah no Ah no Quattro Ah ma perché Ti dà pure I quattro completi Ma quanto dura Sta cosa Non te lo dice Non me lo dice Vabbè Allora abbiamo La DJ sei tu Lancia i dadi Fai swipe Verso destra Sinistra Slop Di incontri Usato da Steph Ricordo I momenti Vissuti I pride Passati A assisti I cambiamenti I negozi I dischi A mano a mano Che passano i messi Steph A fare una sua Personale Ma che cos'è Una cosa stranissima Si era insieme Alla deluxe Io non ho Alla deluxe I figli Che loro nonno E' coinvolto Nella morte Dell'altro nonno Indirettamente Dello zio Si no Ma bella situazione Familiare Comunque questa Molto carina Deliziosa Proprio Si ma penso che Jed Qualquer gastolino Se lo farà In carcere Comunque Cioè penso Si sia proprio Rovinato E non escluderei Che si ammazzi Pure in carcere Cioè perché Perché Ce lo vedo Ce lo vedo A fare L'impiccatina Comunque Non che Non glielo sto augurando Sto dicendo E tipo Ce lo vedo A fare l'impiccatina Spero di no Perché altrimenti Ryan si rompe Si sbriciola Poverino Pure lui Ma cazzo Cioè tuo padre Un assassino Madonna Che cosa brutta Comunque Beh allora Vediamo un po' Penso 12,99 euro E' tanto Comunque 12 euro 13 euro E' tantino Per Per la storia di Steph Vediamo Vediamo Sono curioso Non me ne frega niente In realtà Però sarebbe grazioso Comunque Miglior Lafi Strange Per me Assolutamente Miglior Lafi Strange Cioè Lo sapete Io non sono partita prevenuta Però avete visto Il live Quanto mi sono incazzata Con Lafi Strange 2 Cioè quindi Io veramente Sono super partes Ok E sono E io sono quella Che ho odiato Before the Storm Che è stata fatta Dalle stesse persone Che hanno fatto True Colors Ok Cioè Before the Storm È monnezza Non è cringe Quanto Lafi Strange 2 Cioè Lafi Strange 2 È proprio Insalvabile dal minuto 1 Before the Storm Mi ha fatto incazzare Ho fatto un video Comunque se vi interessa Su Youtube Lo trovate Miglior Lafi Strange Cioè Anche la storia Funziona Sì va bene Ok Non è 100% Accurato Però È il migliore Comunque per ora È il migliore E anche a livello di Visivo A livello puramente Visivo Grafico Le espressioni Il movimento Degli occhi Cioè C'è proprio stato Lo step successivo Non lo step Non la step Step successivo Capito E poi c'è Poi ovviamente C'è un punto in più Perché c'è Ryan Comunque già Cioè Qualunque voto C'è un punto in più Per Ryan Vabbè Da questo Allora Niente Io sono contenta Comunque di Avere fatto questa serie Sono felice anche Perché comunque C'erano molte persone Per il finale Ovviamente Se volete commentare Anche in maniera un po' Più estese Discuterne Il video lo troverete Comunque su Youtube Quindi anche se non potete Farlo in chat Se non vi ho letto Lo potremo fare Su Youtube Io vi ringrazio Per avere partecipato La live sarà divisa in due Su Youtube Comunque Ringrazio tutti quanti Chi si è iscritto Chi si è riscritto Ringrazio anche per i Pits Ovviamente E ovviamente Ringrazio anche NordVPN Che in questo periodo Sta sponsorizzando I miei streaming Detto questo Vi auguro un buon pomeriggio E ci vediamo Domani Con un'altra live Dai Il punto G Ryan Sì Ryan Dai dai Buon pomeriggio a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.